Ciao sono Marco Magro del sito giocaratennis.it e se il tuo rovescio ha due mani, è contratto, goffo, perché non sai bene come utilizzare la mano che sta sopra al manico e quindi quando vai a colpire la palla senti che non è un buon colpo, anche il suono è strano, beh allora ti invito a guardare questa video analisi che ho fatto ad un tennista con il quale abbiamo iniziato un lavoro di pulizia della preparazione del rovescio dove ci siamo soffermati su due aspetti tecnici collegati tra di loro e che sono fondamentali per prepararsi bene e arrivare bene all'impatto, aspetti che sono certo potranno essere utili anche a te. Di cosa sto parlando? Lo vediamo subito. Andiamo a vedere subito il rovescio del nostro giocatore, prima a velocità normale. Ecco qui, andiamo a rivederlo un secondo. Ecco, andiamo ad analizzare alcuni aspetti tecnici che possono essere utili anche a te che stai iniziando a giocare il rovescio a due mani. Prima cosa come puoi vedere la postura. La postura, come adesso ti indico questo segmento verde, vedi che il giocatore è un pochettino curvo in avanti, gambe piegate, diciamo che non è una postura così comoda. Diciamo che se dovessi correre a destra a sinistra va benissimo, ma visto che stai giocando delle palle centrali, come in questo caso, si può tenere una postura un pochettino più comoda, più rilassata. Ma andiamo avanti e guarda cosa succede. Questo, eccolo qua. Questo è un errore commesso da tanti giocatori che giocano al rovescio a due mani, ma anche al rovescio ad una mano. Te lo indico con una freccia rossa questa volta. Come puoi vedere, la testa della racchetta scende subito. Vedi che da qui in alto scende. Questa discesa della racchetta fa sì che in questo momento qui, che è la posizione di massimo caricamento, tu fai una pausa. Pausa che poi influisce negativamente sull'impatto, perché poi, vedi, fa un grande passo avanti il giocatore, va all'impatto. Impatto che è comunque avanti al corpo, quindi un buon impatto. Però il fatto di essere, come puoi vedere qui, col piede appoggiato sulla punta del piede destro, non lo fa giocare in equilibrio. Poi vedi questa estrema rotazione, vedi, dopo l'impatto del busto, tenendo il piede sinistro dietro, fa sì che vai a giocare un rovescio che magari entra, magari anche profondo, però non è fluido, non è veloce, perché alla base c'è un po' di contrazione, di irrigidimento nella fase di preparazione e soprattutto dopo la rotazione del busto e aver portato la racchetta indietro, la racchetta punta in basso. Questo è un problema tecnico che riguarda tantissimi giocatori, ma andiamo a fare il confronto con il loro rovescio di Novak Djokovic. Andiamo ora a confrontare il rovescio del nostro giocatore con quello di Novak Djokovic. Al di là di quelle che possono essere le differenze di impugnatura e di preparazione, ti ho indicato nell'immagine di Djokovic una linea verde verticale per indicare l'equilibrio, per indicare la posizione della testa rispetto alla base d'appoggio, anche quella indicata con un trattino verde. Come puoi vedere già qui si nota una differenza nella fase di preparazione dove Djokovic è bello dritto, gambe poco piegate, testa all'interno della base d'appoggio. Il nostro giocatore invece fa dei grandi passi di ricerca sulla palla, questo non gli permette di essere per bene in equilibrio. Il secondo aspetto poi, se vediamo un altro colpo, è questo qui. Guarda, Djokovic in questo momento termina la fase di caricamento. A sinistra invece puoi vedere il nostro giocatore alla fine della sua fase di caricamento. Due posizioni completamente diverse. Vedi che Djokovic ha la testa all'interno della base d'appoggio, i piedi sono per bene appoggiati a terra e soprattutto eccola qui, te lo segno in verde, la testa della racchetta è più alta rispetto alle mani. Il nostro giocatore ha sì, pardon, aspetta che te la cancello, ha sì la testa all'interno della base d'appoggio, però come vedi, questo te lo segno in rosso, eccolo qui, i piedi sono fuori equilibrio, c'è il piede destro sollevato, il piede sinistro per carità da terra, però è in una posizione di scarso equilibrio. Secondo aspetto determinante, guarda la posizione della testa della racchetta che punta subito in basso. Questi due aspetti collegati assieme, quindi equilibrio nel momento della preparazione e finale della preparazione con la testa della racchetta alta, ci permette di andare a colpire la palla, come vedi qui con Djokovic, in totale equilibrio per poi spingere in avanti. Nel nostro giocatore invece l'impatto è sì avanti al corpo, però è un pochettino sbilanciato, è un pochettino fuori equilibrio. Quindi riassumendo un pochettino i due aspetti tecnici importanti per giocare un buon rovescio a due mani. Prima cosa la postura. Mentre preparo devo stare con entrambi i piedi a terra, con la testa dritta e la schiena dritta. Non serve piegarsi più di tanto, insomma non stiamo giocando a tirar più forte, non è in una condizione, in una situazione di partita, quindi in una situazione di palleggio centrale così puoi tranquillamente stare con le gambe dritte, però morbide, con una buona base d'appoggio. Il finale, cioè la fine della preparazione avviene in questo momento qui, lo puoi vedere in Djokovic, ossia con la testa della racchetta alta. Come vedi, lui, ecco qua, nel momento in cui cambia impugnatura, lui ruota solo le spalle, le mani, te le indico, ok, che inizialmente si trovano qui, poi si trovano un attimino più in alto rispetto alla posizione di partenza, però non fanno giri, non fanno movimenti strani, quindi questo è dovuto all'effetto solamente della rotazione del busto con le mani che rimangono abbastanza ferme. Questa posizione di estremo equilibrio con la testa della racchetta più alta rispetto alle mani permette a Djokovic poi di scendere con la testa sotto la palla e andare all'impatto in una condizione di totale equilibrio e stabilità. Quindi ci vuole un po' di pazienza, però i due aspetti tecnici per preparare un rovescio sono una buona postura morbida e comoda e poi ruotare le spalle tenendo la testa della racchetta più alta rispetto alle mani. Come hai potuto vedere la videoanalisi è uno strumento utilissimo per tutti i tennisti perché vai a vedere il colpo nella sua globalità e poi ti soffermi sui singoli dettagli tecnici per andare a migliorarlo. Se anche tu hai piacere di ricevere una videoanalisi tecnica di un tuo colpo, può essere il dritto, rovescio, il servizio, è sufficiente cliccare sul link qui in alto a destra dove trovi la pagina con tutte le informazioni oppure scrivi un'email a info-giocaratennis.it o lascia un commento qui sotto.